Oggi parleremo di startup e innovazione, una tematica che sicuramente merita attenzione perché sono tante le startup che ogni giorno nascono sul territorio nazionale ma sicuramente è un tema che merita un approfondimento. E allora per questo siamo in collegamento con Roberto Santolamazza, direttore generale di T2i. Benvenuto. Benvenuto. Vediamo se arriva l'audio. Abbiamo qualche problema di connessione. Buongiorno a tutti. Grazie dell'invito. Eccoci qua. Allora dunque al giorno d'oggi come dicevamo... Mi sentite? Ok adesso lo sentiamo. Buongiorno a tutti. Grazie, invito. Benissimo. Allora al giorno d'oggi dicevamo nascono tante startup eppure non tutte riescono a decollare tanto che tre startup su quattro falliscono entro il primo anno. Ecco, cosa serve a una piccola realtà innovativa per restare in piedi sul lungo periodo? Allora, un famoso guru americano dice che sono tre cose sostanzialmente che servono a una startup per prosperare. Il team, il team e il team. Quindi io parto sempre da questo punto, nel senso che partecipo anche spesso a commissioni di valutazione, di startup competition, eccetera, e la composizione della squadra, del team è fondamentale parlando ovviamente di competenze, perché molto spesso magari anche delle belle idee nascono attorno ad un aspetto puramente tecnologico, magari con delle soluzioni davvero innovative, ma dimenticandosi che una startup in primis deve divenire un'azienda e quindi ad esempio il lato marketing, commerciale, ma anche fondamentale amministrazione e finanza che magari, come dicono certi americani, è meno sexy, però è fondamentale per non inchiodarsi dopo pochi mesi. E quindi io direi innanzitutto il tema della multidisciplinarietà, cioè il fatto che non si può essere, io sono ingegnere, ma non si può essere solo ingegneri a fare le startup, concedetemi la battuta, e questo è il primo pezzo. La seconda cosa, direi, l'altro ingrediente fondamentale è il mercato, nel senso che non si può immaginare di aprire una startup innovativa senza avere in mente il mercato, cioè a chi deve essere il mio cliente. Io spesso faccio questa domanda a startup, anche che sono partiti da un po', so che sembra strano, no? Chi è il tuo cliente? Uno dovrebbe averlo scritto sul comodino, diciamo. E spesso è una domanda spiazzante, perché si parte dall'idea di fare la cosa più bella del mondo e magari è vero, ma si pensa che qualcuno è talmente bella, poi la dovrà comprare per forza. E questo è, guardate, un mindset fondamentale, perché conta molto di più fare un test di mercato per quanto rozzo, piuttosto che fare un business plan da 300 pagine. Certo. Tra l'altro c'è un elemento che è entrato a gamba tesa negli ultimi periodi, negli ultimi anni, che è la velocità. Adesso si susseguono delle startup, delle idee nuove, che però rischiano di essere già superate nel momento in cui diventano operative. Pensiamo, per esempio, anche al mondo social. Adesso Clubhouse, per esempio, ha lanciato, comunque ha aperto uno spiraglio e già i colossi Facebook e quant'altro si sono allineati, hanno già trovato una copia più o meno di questa idea e l'hanno sviluppata. Quindi c'è un fattore anche temporale di cui tener conto, una velocità, una rapidità che non è più quella di qualche anno fa. Anche questo è un aspetto da monitorare per lanciare una startup. Perché, mi perdoni, forse completo il ragionamento, si rischia magari di studiare tanto un'idea, di approfondirla, ma nel momento in cui poi si trova la sua realizzazione, non è pratica, rischia di essere già vecchia in qualche modo. Certamente. La variabile tempo è probabilmente la variabile che è cambiata di più in questi ultimi anni. E la digital transformation, la quarta rivoluzione industriale, questo momento storico che tra l'altro il Covid ha davvero accelerato ulteriormente, è caratterizzato proprio da questo punto di vista. Cioè l'obsolescenza delle tecnologie non si conta più in anni, ma si conta in mesi o anche settimane. E questa cosa poi si riverbera sulla finanza, perché se guardate Clubhouse, Clubhouse tre mesi fa aveva delle quotazioni di mercato al Nasdaq, oltre multimiliardarie, adesso vale la metà di quanto veniva stimato in aprile, perché ovviamente l'idea di stare solo sulla voce, poi con alcuni aspetti caratterizzanti, insomma, che l'hanno reso, fatto partire, come si dice in America, skyrocketing come un razzo, in realtà stanno già venendo, non venendo meno, ma diventando comuni ad altre soluzioni. Poi ovviamente i colossi si muovono e fanno prestissimo a magari comprarsi un'altra start-up che fa quel lavoro lì e il vantaggio competitivo sfuma in pochi giorni. Infatti, quello che dicevo prima è proprio legato alla variabile tempo, cioè una cosa che noi seguiamo, stiamo accelerando in questo momento in tutto il Veneto, quasi 60 di start-up tutte registrate innovative, tra l'altro molte proprio dell'area veronese, che diciamo sempre è meglio fare un bel test che per esempio può essere, tra virgolette, gratis. esempio, provare una piattaforma di crowdfunding per fare un piccolo round è un ottimo test per capire se per esempio l'idea è buona, nel senso che arriva a quello che dovrebbe essere il mio cliente, se c'è qualcuno disposto a investire anche un euro nella mia start-up e anche in termini negativi. Se dovessi non avere un esito positivo dalla campagna di crowdfunding, è un ottimo feedback per riposizionare il mio prodotto, la mia idea, cambiare il business plan e vi assicuro che i venture capitalists o comunque, cosa più normale in Italia, diciamo gli angel o comunque soggetti che sono disposti a finanziare, valuteranno molto positivamente il fatto che abbiate fatto anche una piccola campagna di crowdfunding, anche nel caso sia andata male, diciamo, perché sarà già un confronto reale con il mercato e ripeto, soprattutto dimostrerete che, adesso parlo degli start-up, diciamo, ma si dimostra davvero che si vuole entrare nel mercato, cioè non si è nella propria stanza ad elaborare e basta. Questo è assolutamente importante anche perché sia le soluzioni tecnologiche ma che gli aspetti applicativi hanno veramente un vantaggio competitivo che si misura ormai sulle settimane e non più sugli anni sicuramente. Certo. Ecco, passando in ultima battuta su T2i, insomma, di cui lei è direzione generale, ecco, quali sono i servizi con cui supportate le start-up perché poi dopo effettivamente questo fate? Sì, allora, ovviamente sono diversi a seconda del momento nella vita, che comunque magari è breve, o devo ancora iniziare, della start-up. Cioè, noi facciamo un grande lavoro anche di tipo istituzionale, anche in nome per conto dei nostri soci che comunque sono camere di commercio, quindi hanno ovviamente una missione istituzionale di orientamento e di aiuto a chi ha solo un'idea di impresa per capire cosa serve per un'idea di impresa, cosa serve e che cosa significa organizzarsi per immaginare un piano di impresa e partire. Un po' di ingredienti fondamentali li ho detti. Quelli che sono già partiti li aiutiamo a consolidarsi con delle expertise specifiche e in base alle singole necessità, quindi allo sviluppo e consolidamento del business plan, al monitoraggio, all'uso anche di esperti universitari, manager esterni, per fare coaching, ad esempio, affiancamento degli start-up nella crescita della propria impresa. E dall'altra parte li aiutiamo magari a usare anche strumenti tecnologici, a fare anche matching, diciamo. Ecco, un altro aspetto che se mi consentite è anche strategico per questo territorio e spesso non è così al centro delle attenzioni, cioè anche gli start-up stessi hanno sempre in mente un po' il venture capitalist come l'uomo sul cavallo bianco che arriva magari da una Silicon Valley e vuole darti un milione o un miliardo di dollari. Ecco, questo non è, è molto letterario, ma non esiste. I venture capitalists sono pochissimi, in Italia soprattutto, investono a fronte di certe situazioni che hanno già una maturità consolidata. Ci sono degli angel interessanti, quindi anche dei singoli, che sono disposti a investire più o meno tanto in un'idea di impresa, ma soprattutto io credo che il grande potenziale a cui i nostri start-up devono vedere è proprio il matching, cioè il matchmaking, come si dice, con imprese consolidate del territorio. Cioè nella logica del modello, diciamo, che si chiama, c'è un famoso professore di Berkeley che l'ha codificato ormai 15 anni fa, open innovation, cioè il fatto che start-up e aziende consolidate possano collaborare, quindi non necessariamente che l'azienda consolidata debba comprarsi la start-up, però può essere una situazione, come si dice, molto win-win. Perché? Perché ovviamente la start-up entra in contatto e lavora con un soggetto che è sul mercato magari da 30 anni. Dall'altra parte l'azienda consolidata, tutto sommato, ha un'accelerazione di innovazione, perché se dovesse mettersi per conto suo a provare quella tecnologia innovativa, eccetera, eccetera, ci metterebbe troppo tempo, i propri processi sono complicati, eccetera, eccetera. Quindi non necessariamente che l'azienda grande si compra la start-up, ma con una bella commessa, tra l'altro le normative nazionali rinforzate con il Covid danno degli sgravi enormi alle aziende consolidate che danno una commessa a una start-up innovativa, cioè si recuperano il 50% praticamente. E dall'altra parte, questo è un appello agli start-up, non esistono due economie, come spesso pensano, l'economia un po' grigia delle aziende che sono lì sul mercato e magari fanno qualche miliardo di fatturato, e invece l'economia cool, molto figa degli start-up, che però magari fatturano 10.000 euro. Ecco, sono due mondi che devono essere tutti e due sul mercato, il mercato è uno, possono esserci veramente degli incontri di interesse reciproco davvero interessanti, e quindi quello che facciamo, ecco, era per raggiungere questo tassello, oltre a un lavoro personalizzato di assistenza, è organizzare occasioni di matchmaking tra imprese consolidate del territorio e start-up, ovviamente su temi, tecnologie specifiche, oltre che anche con alcuni istituti, tra i principali istituti di credito italiani che sono sul territorio e sono molto interessati a questo mondo. C'è un mondo da esplorare, c'è un mondo da esplorare, Giorgia, sicuramente ci sono dei riferimenti, dopo ne faremo vedere qualcuno, anche a livello proprio istituzionale, su cui andare ad informarsi, e comunque la chiacchierata di questi minuti ci ha dato degli spunti interessanti, e dei punti su cui riflettere, sicuramente quello temporale, ma anche quello della programmazione, quindi davvero grazie anche per questo intervento che ci ha chiarito meglio le idee, perché non è sempre facile orientarsi. Certo, sono a disposizione, siamo a disposizione per qualsiasi approfondimento, informazione. Grazie, grazie, arrivederci. Grazie a voi per la possibilità. Grazie. Buon proseguimento.